proseguiamo la nostra lezione con la discussione di alcune proprietà degli eventi di Poisson in particolare discutiamo adesso le proprietà dei tempi di attesa abbiamo visto che il tempo di attesa tra un evento di Poisson e successivo è una variabile di tipo esponenziale allora vediamo questo esempio i guasti di un impianto sono eventi di Poisson con densità lambda sapendo che trascorso un tempo tau dall'ultimo guasto trovare la densità di probabilità fz della variabile casuale z definita come il tempo che bisogna ancora aspettare per il prossimo guasto quindi sostanzialmente sappiamo che tra un guasto e l'altro visto che sono eventi di Poisson il tempo di attesa è esponenziale e però un po di tempo è già passato quindi dall'ultimo guasto è passato un intervallo di tempo pari a tau allora qual è la densità di probabilità del tempo che mi rimane da aspettare ecco è un tipo di domanda molto naturale e probabilmente una domanda che molti di noi ci si sono fatti per esempio quando si aspetta l'autobus quindi uno potrebbe immaginare che ci sia una densità di probabilità del tempo che passa tra il passaggio di due autobus si va alla fermata e poi dopo un quarto d'ora o venti minuti che si è fermi ad aspettare l'autobus viene legittimo domandarsi quale sarà la densità di probabilità del tempo che mi resta da attendere naturalmente la speranza è che avendo aspettato così tanto il tempo che rimane da attendere abbia una densità concentrata sui valori bassi per cui magari aspettando ancora due tre minuti visto che tanto sospirato autobus vediamo cosa succede nel caso in cui gli eventi sono dei degli eventi di poisson ecco allora diamo qualche definizione allora vi è il tempo di funzionamento tra un guasto e il successivo guasto quindi vi può anche stare per vita no per esempio quindi se invece che un impianto fosse un pezzo è la vita del pezzo prima che il pezzo si guasti abbiamo detto che per ipotesi vi è una variabile casuale esponenziale e z il tempo residuo è qualcosa di un po particolare quindi diamo questa definizione in cui sicuramente z è vi meno tau cioè la differenza tra la vita del pezzo tra il tempo diciamo di attesa tra un evento di poisson successivo meno tau tau è il tempo che è già trascorso però non posso considerare solo vi meno tau perché vi potrebbe anche essere più corto di tau in generale quindi il tempo d'attesa di un evento di poisson può essere anche molto vicino allo zero e quindi potrebbe avere un valore negativo quindi questo è vi meno tau però sotto una condizione quindi questo è proprio un condizionamento la condizione è che vi sia maggiore di tau nel senso che io ho aspettato per tau unità di tempo e non è successo niente quindi io so che in quel particolare caso la variabile casuale vi quindi il tempo tra un guasto e successivo è comunque risultato essere più grande di tau della variabile tau qui per comodità ho riportato la densità e la funzione di distribuzione della variabile casuale esponenziale allora procediamo con i nostri calcoli vorremmo trovare la fz di z questa per definizione la probabilità che z si viene uguale di z e a questo punto al posto di z inseriamo la sua definizione che avevamo appena dato abbiamo detto che z è v meno tau però condizionato quindi devo calcolare la probabilità che v meno tau sia meno uguale di z però ricordandomi che vale questo condizionamento allora questo è una probabilità condizionata delle più classiche e che viene gestita proprio con la definizione quindi devo calcolare la probabilità dell'evento congiunto al numeratore dividendo per la probabilità dell'evento condizionante quindi la probabilità di v meno tau meno uguale a z insieme alla condizione v maggiore di tau il tutto diviso per la probabilità di questo termine di quello condizionante che è la probabilità che v sia maggiore di tau questo denominatore ovviamente si può calcolare con la funzione di distribuzione per quanto riguarda il numeratore faccio una piccola modifica quindi qui scrivo v meno uguale di z più tau così a questo punto mi rendo conto che qui sto dicendo che v è maggiore di tau ed è minore uguale di z più tau quindi diciamo il numeratore mettendo assieme i due eventi congiunti mi dice che v è compreso tau e z più tau al denominatore sostituisco l'espressione della esponenziale che è 1 meno e alla meno lambda tau e quindi qui c'è una semplificazione rimane e alla meno lambda tau qui al numeratore se devo calcolare la probabilità che una variabile casuale prenda valore in un intervallo mi basta fare la differenza tra la funzione di distribuzione nell'estremo destro meno la funzione di distribuzione nell'estremo sinistro quindi f v di z più tau meno f v di tau ecco a questo punto procediamo allora qui al numeratore la funzione di distribuzione valutata in z più tau è fatta così la funzione di distribuzione valutata in tau è questa c'è la semplificazione degli uni al denominatore si è già tutto un po' semplificato avevamo e alla meno lambda tau a questo punto raccolgo il fattore comune e alla meno lambda z e alla meno scusate lambda tau mi rimane 1 meno e alla meno lambda z si semplifica l'e alla meno lambda tau col denominatore quindi mi rimane alla fine 1 meno e alla meno lambda z ma se la guardo in faccia questa è la funzione di distribuzione della esponenziale quindi quando calcolo la densità troverò proprio la solita densità lambda e alla meno lambda z qui allora abbiamo una situazione un po' paradossale perché il tempo tra due guasti è per ipotesi un esponenziale che è questa lambda e alla meno lambda phi l'avevamo anche scritta ma se intanto è passato del tempo sono passati tau istanti di tempo e io voglio capire che cos'è che mi aspetta quanto dovrò portare pazienza ancora e mi calcolo la densità di probabilità del tempo residuo ho una sorpresa la densità di probabilità del tempo residuo è uguale alla densità di probabilità del tempo che io avrei aspettato se avessi cominciato il conteggio subito dopo l'ultimo guasto quindi in qualche modo aver aspettato del tempo il fatto che sia passato un intervallo di tempo tau non ha nessun effetto sul tempo residuo quindi è come se si ripartisse ogni volta da capo quindi questa è una cosa abbastanza diciamo così che colpisce l'immaginazione tanto è vero che prende il nome di proprietà di non memoria della variabile esponenziale la spiegazione è questa che se la durata di un fenomeno è una variabile casuale esponenziale anche quando io so che è già giurato un certo tempo tau da quell'istante in realtà è come se tutto ricominciasse da zero qual è la radice di questo comportamento così strano? la radice è proprio data dalle prove di Bernoulli nelle prove di Bernoulli ad ogni lancio del dado, della moneta, di quello che volete si ricomincia tutto da capo nel senso che dal punto di vista che si verifichi o non si verifichi una vittoria questo è qualcosa che inizia da zero diciamo tutte le volte e questo succede quindi anche per i processi di Poisson in particolare in relazione al tempo di attesa ecco procediamo con un altro esempio interessante e in quest'altro esempio invece dato una variabile casuale x vorremmo calcolare una funzione h piccolo di x che è definita in questo modo è una densità di probabilità condizionata a un evento m un po' particolare l'evento m è che x sia maggiore di x in qualche modo è la densità di x però condizionata al fatto che la variabile casuale x è maggiore della variabile x che sta dentro nella formula della densità così e vorremmo fare questo calcolo per due situazioni il caso in cui x sia uniforme in zero t e il caso in cui x sia invece esponenziale allora il primo passaggio è cercare di capire come si scrive questa densità di probabilità condizionata a un evento questo non l'avevamo specificato avevamo detto come si faceva con la funzione di distribuzione se devo farlo per la densità di probabilità mi può convenire usare l'espressione quella con il limite quindi la densità di x dato m valutata in x è data dal limite per delta x che tende a zero della probabilità condizionale quindi la probabilità che x sia tra x e x più delta x condizionatamente all'evento m ok quindi avendo chiarito questo posso procedere quindi nel nostro caso la probabilità di x compreso tra x e x più di x condizionata a x maggiore di x è ovviamente per definizione di probabilità condizionata la probabilità dell'evento congiunto qui tolgo il condizionamento e metto una virgola diviso la probabilità dell'evento condizionante ma quant'è la probabilità dell'evento condizionante? beh la probabilità di x maggiore di x piccolo è 1 meno fx di x piccolo al numeratore tra l'altro si vede che questa condizione tutto sommato è quasi ridondante nel senso che qui dovrei mettere mettere un maggiore nel senso che devono valere tutte e due e questo dice che qui la x deve essere minore o uguale di x più delta x che deve essere maggiore o uguale a x ma qui chiede che sia anche strettamente maggiore di x quindi qui bisogna mettere un segno di strettamente maggiore anche se poi è abbastanza irrilevante dal punto di vista dei calcoli perché abbiamo a che fare con variabili continue pertanto il calcolo finale della densità condizionata è questo con il limite noi abbiamo già calcolato quello che c'è al numeratore fx di x al denominatore abbiamo 1 meno fx di x ecco qui viene fx di x perché ho la probabilità questa diviso delta x se andate a vedere le proprietà della densità di probabilità questo limite di probabilità diviso delta x è proprio quello che permette di diciamo avere come risultato del limite la densità di probabilità 1 meno fx è quello che c'è al denominatore ecco questa è la nostra funzione h di x quindi la funzione h di x se voi avete una variabile casuale che rappresenta un tempo d'attesa può essere semplicemente scritta come la densità diviso 1 meno la funzione di distribuzione ecco, ora vediamo subito cosa succede nel caso dell'uniforme allora nel caso dell'uniforme questa è la densità di probabilità e questa è la funzione di distribuzione che è 0 fuori dal rettangolo 0t ma ha al suo interno una crescita lineare che porta a saturare al valore 1 quando sostituisco queste espressioni dentro la formula per h trovo fx diviso 1 meno f grande x quindi risulta 1 su t diviso 1 meno x su t faccio un po' di semplificazioni viene 1 diviso t meno x oppure viene 0 altrove quindi facciamo un conto semplice la cosa interessante però è vedere com'è fatta questa funzione quindi 1 diviso t meno x e lo vediamo qui com'è fatta la funzione qui parte da 1 e poi qui addirittura un assintoto verticale ah ecco vi svelo che questo h di x deriva anche dal fatto che questa è una funzione chiamata anche hazard function funzione di azzardo proprio potremmo dire e c'è un'interpretazione che forse vale la pena di vedere insieme se noi interpretiamo x come la vita di un pezzo quindi intesa come tempo tra inizio di funzionamento e istante di guasto oppure se c'è stata una manutenzione potrebbe essere esattamente il tempo che intercorre tra un guasto e il guasto successivo però comunque questa è la vita di un pezzo così allora cosa succede h di x per dx per delta x si lascia interpretare come la probabilità di avere la morte del pezzo oppure di avere un guasto nel mio impianto nell'intervallo di tempo x x più delta x sapendo che il pezzo ha vissuto un tempo x cioè io fino ad x ce l'ho fatta e questo lo so e allora valuta che cosa succederebbe se invece le cose cioè con che probabilità le cose andranno subito male e questo lo si vede con hx delta x ecco naturalmente cosa succede se questa è la probabilità che arrivi il guasto o la morte nell'intervallo di tempo x più x x più delta x è chiaro che nel caso dell'uniforme mano a mano che mi avvicino al limite t grande so che deve succedere qualcosa naturalmente perché io so che gli eventi qui se pensiamo che l'uniforme mi descriva un tempo d'attesa che serve poi a descrivere eventi in questo caso ho degli eventi i quali non possono mai essere più più diciamo più distanti di t grande per cui mano a mano che mi avvicino a t grande a questo punto effettivamente deve saltare fuori che la distanza effettiva era proprio quella era quella t grande e quindi la probabilità che ci sia la morte o che arrivi il guasto tende all'infinito perché diciamo la vita del pezzo se assumo la distribuzione uniforme non puoi superare t quindi se io a t meno epsilon vedo che è ancora funzionante il pezzo per come erano l'ipotesi di partenza devo pensare che sta per rompersi che non arriverà diciamo molto lontano ok nel caso esponenziale possiamo rifare lo stesso conto è anche addirittura più semplice qui metto la densità lambda e alla meno lambda x qui faccio il calcolo con funzione di distribuzione semplifico i termini con gli esponenti e mi rimane lambda per x maggiore o uguale a 0 e 0 per alfa minore di 0 come si interpreta questo si interpreta che il pericolo di morire immediatamente dopo quindi uno fa la sua statistica dice solo una percentuale diciamo fa la sua statistica e sa che c'è una probabilità che hx delta x di morire istantaneamente sapendo di essere vissuti fino a quel momento e mentre nel caso dell'uniforme questa probabilità di morte istantanea di fatto cresce addirittura va all'infinito quando arriva a questo limite t grande perché diciamo la durata della vita è finita sotto l'ipotesi uniforme nel caso esponenziale invece c'è un'altra cosa stupefacente ed è che questa probabilità di morte istantanea è sempre uguale sempre uguale a lambda il che da un lato vuol dire che non sparisce e non è bello però dall'altro vuol dire che non si aggrava l'interpretazione corretta è dire che in questo caso il modello è tale per cui la x quando è esponenziale non invecchia cioè quindi è un'altra faccia di quello che avevamo visto prima quindi se il tempo di attesa è esponenziale a questo punto aver aspettato del tempo non mi dà diritto a nessun credito quindi non c'è ragione per cui la mia pratica venga sbrigata più rapidamente se i tempi di attesa sono tempi di attesa per il disbrigo di pratiche quindi questo qui è molto diverso e quindi qui c'è questa probabilità di morte istantanea che diventa molto piatta questo è una delle cose caratteristiche dell'azzardo e la nozione di azzardo è molto usata almeno in due campi uno sono i modelli di sopravvivenza per esempio per l'analisi degli studi clinici per lo sviluppo di farmaci e di vaccini e l'altro caso di utilizzo è quello della teoria dell'affidabilità quindi effettivamente ha a che fare col problema dei guasti quanto facilmente si presentano i guasti quanto possono essere le strategie per prevedere il presentarsi dei guasti ecco arrivati a questo punto possiamo introdurre quelle definizioni alternative di processo di passò che avevamo promesso allora per farlo introduco la nozione di renewal process processo di rinnovo qualcuno lo scrive sono degli eventi casuali tk tali per cui i tempi di intercorrenza che sono la differenza tra tk e tk a meno 1 per esempio sono delle variabili casuali positive indipendenti e identicamente distribuite con valore medio compreso tra 0 e infinito quindi questi sono degli eventi non necessariamente uguali a quelli di Poisson potrebbero essere anche abbastanza diversi che funzionano in questo modo io qui ho un evento poi c'è una variabile casuale che mi dice quanto devo aspettare per il prossimo evento e poi qui c'è una variabile casuale che mi dice quanto devo aspettare per il prossimo evento ecco naturalmente di questi tempi così la cosa importante è che siano indipendenti quindi sostanzialmente per fare anche una simulazione di questo processo di rinnovo non ci sarebbe una grande difficoltà perché se parto per esempio da un t0 a questo punto simulo x1 e arrivo in t1 a questo punto in maniera indipendente simulo x2 il quale mi fa arrivare t2 e così via quindi processi molto interessanti anche facili da simulare da caratterizzare perché poi alla fine basta avere la conoscenza della distribuzione del tempo di attesa ok però adesso ci interesserebbe capire questi processi non abbiamo tempo di approfondirlo come argomento però vorremmo capire come questi processi si legano al processo di Poisson allora si legano in maniera molto semplice nel senso che io potrei definire il processo di Poisson come un caso particolare dei processi di rinnovo e la definizione è questa un renewal process in cui i tempi di intercorrenza xk sono delle variabili casuali esponenziali ecco è detto processo di Poisson quindi avrei potuto arrivare a definire il processo di Poisson senza passare attraverso il processo di Bernoulli ma semplicemente dicendo che è un processo in cui ci sono degli eventi separati da dei tempi di attesa questi tempi di attesa sono variabili casuali indipendenti identicamente distribuite quando scelgo come tempo d'attesa l'esponenziale magicamente ottengo gli eventi di Poisson ecco un'ottima definizione dal punto di vista tecnico credo che dal punto di vista dello studente lasci un po' insoddisfatti perché questi eventi di Poisson si portano dietro talmente tanti proprietà proprietà come dire che diciamo da un certo punto di vista sarebbe bello avere un'intuizione su come nascono e l'idea semplicemente di avere questa definizione col tempo di attesa esponenziale obiettivamente non rende molto l'idea delle proprietà un'altra definizione alternativa anche questa rigorosissima naturalmente ma non particolarmente espressiva è quella che definisce eventi di Poisson degli eventi casuali che hanno due proprietà la probabilità di avere K20 in un certo intervallo TA è pari a questa e se ho più intervalli TA1 TA2 TAn disgiunti tra di loro così a questo punto questi sono intervalli sull'asse dei tempi li possiamo vedere qui quindi qui c'è l'asse dei tempi c'è una zona presidiata dal giallo qui abbiamo l'arancione e qui abbiamo il viola allora mi domando qual è la probabilità di avere K1 eventi in TA1 K2 in TA2 e TAN in K3 ecco se accade che questa probabilità si può scomporre come il prodotto di probabilità più semplice quindi probabilità che il numero di eventi in A1 sia K1 quello in A2 sia K2 e così via se vale questo sempre e comunque posso effettivamente dire di avere degli eventi di Poisson di nuovo bella definizione però non rende ragione delle caratteristiche degli eventi di Poisson quindi lascia poco spazio all'immaginazione una estensione diciamo particolarmente interessante degli eventi di Poisson sono i processi di Poisson nel piano e nello spazio noi finora abbiamo sempre lavorato sull'asse reale non do grandi definizioni su questo argomento preferisco fare un esempio e poi dire alcune cose allora l'esempio è il bombardamento su Londra della seconda guerra mondiale da parte dei nazisti allora questo consiste in potrebbe essere una piantina di Londra e poi dei punti che sono i punti dove sono cadute le bombe dove sono cadute le bombe ecco questo insieme di punti potrebbe essere immaginato come un processo spaziale anzi come un processo di Poisson spaziale abbiamo a disposizione nella densità del bombardamento quindi il numero medio di ordigni che sono caduti su un chilometro quadrato quindi 3,729 bombe su chilometro quadrato vorremmo capire ammettendo che questi siano dati affidabili come posso calcolare la probabilità che nella zona di un chilometro quadrato siano cadute 0, 1 o un numero di bombe maggiore o uguale a 2 ecco come si risolve? si risolve esattamente con la formula della Poissoniana perché la formula della Poissoniana effettivamente funziona indistintamente bene anche nel caso in cui al posto di T.A che era un intervallo ci metto un'area o addirittura al posto di T.A ci metto un volume quindi quando mi muovo in numero di dimensioni superiori qui abbiamo bisogno di mettere un'area perché stiamo parlando del bombardamento quindi questa potrebbe essere una piantina di Londra e qui i punti rossi sono i punti in cui sono arrivate le bombe e hanno magari tirato giù delle case allora nel nostro caso S.A vale 1 su chilometro quadrato scusate S.A è 1 chilometro quadrato non è 1 su chilometro quadrato è il sigma che allora il sigma invece l'abbiamo messo qui è 3,79 su chilometro quadrato quindi S.A invece è 1 chilometro quadrato la probabilità di avere 0 bombe in 1 chilometro quadrato è questa che è relativamente piccola la probabilità di avere esattamente una bomba è quest'altra che come vedete è un po' più grandicella infine la probabilità che S sia maggiore uguale a 2 anche in questo caso c'è il problema che sembrerebbe che io debba calcolare la probabilità che S.A il numero di eventi in S.A sia uguale a 2 il numero di eventi in S.A sia uguale a 3 uguale a 4 e così via e ovviamente è molto lungo piuttosto conviene lavorare alla rovescia quindi fare 1 meno la probabilità che il numero di successi il numero di eventi sia uguale a 0 meno la probabilità che il numero di eventi sia uguale a 1 a questo punto rimangono solo le situazioni in cui ho un numero di eventi maggiore o uguale a 2 altri esempi con cui concludiamo la lezione potrebbero essere nel piano potrebbero essere le gocce di pioggia su una piastrella quindi immaginate un temporale estivo una bella piastrella sul giardino quando cadono le prime gocce si vede proprio sulla piastrella il punto in cui magari era tutto asciutto prima in cui cade questa nuova goccia ecco questo potrebbe essere un bel esempio di eventi di Poisson nel piano nulla vieta di immaginare anche eventi di Poisson nello spazio e quindi per esempio potrebbe essere l'impurità all'interno di un cristallo ecco questo potrebbe essere un esempio ecco eventi di Poisson se ne trovano un po' dappertutto anche nel caso del covid ci sono eventi di Poisson perché i decessi se tutto diciamo se i numeri rispecchiassero quella che dovrebbe essere la teoria i decessi dovrebbero essere distribuiti Poissonianamente questo spiega un po' anche perché i dati dei decessi sono sempre molto ballerini noi abbiamo visto che per Poisson la varianza ugualia la media e quindi a quel punto se uno va a vedere in termini di dispersione i risultati ottenuti finora sono diciamo in qualche modo molto oscillanti perché diciamo anche adesso siamo sui 300 400 decessi dovete immaginare che c'è una varianza pari a 300 400 quindi il fatto di vedere da un giorno all'altro dei forti sbalzi nella mortalità non deve essere cosa che vi sorprende ecco direi che per oggi abbiamo finito